Nella giornata di oggi noi stiamo lavorando, stiamo strutturando lo studio dello shooting da sposa. Si arriva a questa giornata dopo aver fatto un percorso di quasi metà corso. Nel loro progetto hanno studiato il trucco, hanno studiato un'eventuale o potenziale acconciatura e ovviamente anche un abito. Hanno già fatto delle prove e nella giornata di oggi sotto ovviamente la mia guida loro porteranno a compimento quello che è il loro progetto e oggi lo vedranno realizzato in quelli che poi sono gli scatti che loro vedranno e che loro potranno utilizzare anche usciti da qua in un secondo momento. Grazie per la visione!